La prima sfida pastorale che deve affrontare oggi la famiglia sta prima di tutto nel fatto che i figli non considerano il matrimonio come una necessità, ma come una possibilità. Pensano che accedere al sacramento del matrimonio sia facoltativo, perché ritengono che il matrimonio in chiesa non sia più necessario. Invece la nostra opinione è che per far funzionare un matrimonio ci vuole la grazia di Dio. Come dicevamo, è importante sposarsi in chiesa per ricevere questa grazia di Dio e poter essere in grado di affrontare le sfide della vita. Le aspettative sono molte, perché esistono tante realtà che accadono ai nostri giorni e che rappresentano una sfida per la famiglia. Ci auguriamo che con il sinodo, chiese e laici possano unirsi per mettere insieme le loro forze e vincere questa grande sfida posta alla Chiesa. Ci aspettiamo anche che il sinodo consenta di giungere ad un insegnamento unico e decisivo, che orienti veramente, soprattutto noi laici, a proclamare e a vivere pienamente quanto Dio ha preparato per noi in questo mondo. In proclamare e in veramente vivere quello che Dio ha planato per noi in questo mondo. Signore, il inizio è un'assistente frattaccia di Dio e inizio è un'assistente frattaccia di Dio e inizio è un'assistente frattaccia di Dio. Grazie a tutti